bx jointed shad 6 cm per 7 grammi anch'esso appartiene alla categoria bx quindi balza extreme interno in balza ed esterno in copolimero molto resistente è un artificiale snodato quindi che può essere utilizzato sia per recuperi molto lenti ma può essere utilizzato anche con cercate e spanciate che simulano alla perfezione un pesce ferito e morente